Listen to me. Milano e le sue case museo in un podcast. Dove vuoi, quando vuoi. Un percorso a più voci con 21 ospiti d'eccezione per un viaggio imperdibile tra arte contemporanea, architettura, design, moda, musica e letteratura. Milano oggi è una delle capitali internazionali della moda, ma come ha fatto a diventarlo? Dagli anni, diciamo, 70, quando Walter Albini portò la prima sfilata a Milano da Firenze, poi Missoni e diventò un centro a Milano, mentre prima era tutto spostato su Firenze, quando io ho cominciato a lavorare addirittura, la moda, la capitale della moda era a Torino, dove c'erano tutte le sartorie e poi c'era una fiera che si chiamava Essamia, cosa che credo non sappia nessuno quasi più. Poi nello stesso tempo a Firenze c'era Pitti e poi c'era l'alta moda a Roma e Milano proprio non esisteva. Milano era la sede del design e anche molto dell'arte. Quindi con Albini e poi cominciò il pret-à-porter Armani, Versace e cominciò questo boom dove Milano divenne la capitale della moda. Tutti i fotografi erano qui, tutte le modelle erano qua e poi ho lavorato tanti anni a Vogue e quindi vedevo tutta questa effervescenza che poi si spostò su New York, ma per moltissimi anni è stata a Milano. Quindi è cominciato un periodo, diciamo, a fine 70, tutto 80, 90, Milano ancora oggi è conosciuta per la moda e per il design. Lei è Carla Sozzani, un nome celebre nel mondo della moda, creatrice di Corso Como 10, il primo concept store del mondo di cui parleremo nel quarto episodio. Per tanti anni protagonista insieme alla sorella Franca dell'editoria Fashion, da Vogue a Elle, è la persona ideale a cui chiedere come Milano è diventata una capitale della moda e se lo resterà in futuro. Allora, io sono innamorata di Milano, quindi credo che Milano diventerà la capitale d'Europa, ma lo dico non perché Londra si è tagliata fuori, Berlino non ce l'ha mai fatta. Quindi tra Roma e Milano è ovvio che Milano, la capitale della moda, non si può toglierne questo e quindi rimarrà sempre questa lotta, diciamo, Milano-Perigi. Però la cosa bella è che dopo il 2015, la famosa Expo, che in tutte le altre città del mondo è stata una catastrofe, dopo alla fine, Milano in maniera straordinaria, inaspettata, ha cominciato ad essere stata vista dagli stranieri che prima mi dicevano «Oh, Milano noioso!» Ora invece, che bella Milano, come bella Milano, i giardini segreti di Milano, perché quella è una bella passeggiata. Milano è piena di giardini che la gente non conosce. Non è solo la bellezza rendere Milano la capitale della moda, è anche e soprattutto il saper fare, come ci conferma Satoshi Kuata, stilista giapponese emergente col suo brand Setsu, che si è trasferito a Milano dopo aver lavorato a Londra, Parigi e New York. Quando vivevo a Londra, lavoravo per una sartoria chiamata Hutzmann & Sons. Confezionavamo vestiti per la famiglia reale inglese. I reali viaggiavano in Toscana o a Venezia, ma i loro vestiti risultavano troppo pesanti. Così chiesero ad un sarto italiano, che era bravissimo a confezionare camice, di realizzare dei vestiti più leggeri, che avrebbero molto successo. Come designer mi sono occupato di produzione di vestiti in Cina, negli Stati Uniti, sia sulla costa est che su quella ovest, in Giappone. Ho avuto esperienze di produzione anche in Africa, Kenya, Madagascar, Marocco e in Francia. Devo dire che gli italiani sono i più bravi. Lavorare con gli italiani è quasi come lavorare con Leonardo da Vinci o Michelangelo, perché scolpiscono i vestiti. Così si diceva a Saville Rowe. Fare un vestito non è produrre un indumento, ma scolpire un corpo in qualcosa di bellissimo. Devi capire le forme tridimensionali. E così, quando ho avviato il mio brand personale di moda, ho fatto alcuni test di produzione in Giappone, perché volevo creare un mix di cultura giapponese e cultura europea. Perché questo è il significato del mio brand. Lavorare con un'azienda giapponese è stato un processo molto lungo. Il risultato era molto piatto. I giapponesi vestono all'occidentale da appena 70 anni. Prima le persone usavano solo il kimono e lo usano a volte ancora adesso. Quindi l'approccio è differente. In Inghilterra ci sono alcune ottime aziende che lavorano per grandi come Alexander McQueen, ma in Italia ci sono molte più persone che lavorano nel tessile e quindi il saper fare viene passato di generazione in generazione. Si dice che le nuove generazioni stiano perdendo il sapere, ma comunque rispetto alle altre nazioni gli italiani sono ancora davvero bravi. Questa centralità della moda a Milano si riflette anche nello stile dei suoi abitanti. Sentiamo Fabio Quaranta, fashion designer e artista che si è trasferito da Roma a Milano. La moda a Milano è una grandissima qualità che a volte dimentica purtroppo, che da quando esci di casa ti rendi conto che le persone vicino a te, ma soprattutto delle precedenti generazioni, gli uomini e le donne, hanno uno stile, mi viene di chiamarlo così, che è unico al mondo. Questo stile potrei dire borghese, ma eccentrico in qualche modo, è un po' il DNA, credo, della moda di Milano. Io sono molto attratto da questo stile perché è naturale, lo vedo nelle persone con la disinvoltura, quello che rende ovviamente poi i capi molto eleganti, ma questa disinvoltura in questo tipo di abbilamento credo che non ho visto in altre parti del mondo. D'altro canto, la cura del vestire e dell'apparire non è una novità per Milano. All'inizio dell'Ottocento, lo scrittore francese Stendhal esalta la bellezza e l'eleganza delle donne milanesi. E se andiamo ancora più indietro nel tempo, possiamo perderci nell'ammirazione della raffinatissima Cecilia Gallerani, ritratta da Leonardo da Vinci nella Dama con l'Ermellino, oggi esposta a Cracovia. La cura dell'acconciatura, dei vestiti, dei gioielli ci trasmettono lo sfarzo di una Milano che ambiva ad essere l'Atene del Rinascimento e che ha lasciato tracce nella moda sia maschile che femminile. Per avere una prova, andiamo al Museo Bagatti Valsecchi di Milano. Si trova nel cuore del quadrilatero della moda, roccaforte dell'alta moda delimitata da Via Monte Napoleone, Via della Spiga, Via Manzoni e Corso Venezia. Apparentemente è un contrasto fortissimo, un museo raccolto, silenzioso, che ci parla del passato, all'interno di uno dei quartieri più costosi del mondo, dove le boutique combattono tra loro a colpi di vetrine scintillanti e capi unici senza prezzo. Un quartiere che fa dell'ostentazione la sua cifra, eppure necessario per l'industria della moda, come ci conferma lo stilista Satoshi Kuata. Penso che il quartiere di Via Monte Napoleone sia molto importante perché mostra il livello a cui sei arrivato. Per esempio, se si ha un negozio lì, significa che si ha successo finanziario. Quindi penso che sia un'area necessaria per l'industria della moda. Eppure il quadrilatero non è sempre stato così. Come ci racconta lo scrittore Alberto Sei Bene, cresciuto nel quartiere prima che venisse conquistato dall'alta moda. Quello che è successo, perché comunque le famiglie più prestigioni di Milano non abitavano in Via Spiga in generale, ma ci abitavano un certo tipo di borghesia imprenditoriale o delle professioni, eccetera, eccetera. Lì sono nati dei negozi, le prime boutique a metà degli anni Sessanta, la prima sede di Linus era in Via della Spiga. E quindi c'è stata una trasformazione che poi come sempre accade, a un posto si aggiunge un altro, diventa sempre più rapida e a partire dagli anni Ottanta, quando la moda diventa importante a Milano e soprattutto dagli anni Novanta, Via Spiga e il quadrilatero in generale ha preso l'aspetto che adesso, che sono passati i trent'anni, ha quella cosa sia ulteriormente enfatizzata. Mio padre, con una punta di snobismo, diceva che era diventato un duty free la zona del quadrilatero. Dopodiché, va bene essere snobba, è meglio non esserlo in buona sostanza. E quindi, se uno ancora viene da queste parti e vede un cortile aperto, vede un androne, eccetera, secondo me deve, senza chiedere permesso, affacciarsi e vedere se c'è un giardino. La bellezza di Milano è nascosta, come scrive Standal, che ha fatto scrivere sulla sua tomba milanese. E qua, di bellezza nascosta, un po' ce n'è ancora, se uno la cerca la trova. Uno di questi angoli di bellezza nascosta nel quadrilatero è sicuramente il Museo Bagatti-Valsecchi, opera dei due fratelli Bagatti-Valsecchi che a fine Ottocento ristrutturarono il proprio palazzo in Via Gesù, in modo da renderlo una vera e propria capsula temporale che facesse tornare i visitatori nel Rinascimento. Sentiamo come lo descrive l'architetto Alessia Garibaldi. È un museo, una casa ideata per i due fratelli che viene progettata intorno a una collezione con ispirazione rinascimentale e per una collezione quattrocentesca, 1500-1400. Per cui il progetto è molto interessante perché è un concetto moderno, è un concetto contemporaneo. Spesso ci è capitato di avere clienti collezionisti che ci hanno chiesto di avere molte pareti, di pensare al progetto in modo proprio scenografico per in qualche modo esaltare la collezione. C'è chi dice che ogni collezionista poi è vittima della sua collezione, è quasi subordinato. E in effetti anche in Palazzo Bagatti-Valsecchi si percepiscono due cose. Uno, la grande voglia, l'accoglienza. Ci sono molte frasi latine nell'edificio che raccontano questa voglia di accogliere sempre il visitatore. Quindi anche lì capiamo che era già un edificio pensato in relazione con i suoi visitatori. E ha tutte queste simmetrie che valorizzano molto gli arazzi, gli oggetti d'arte. Quindi è veramente una casa pensata, sì, per essere abitata appunto dai due fratelli, ma anche per esporre una collezione di oggetti antichi, di quadri, quindi ha tutte queste simmetrie, i due cortili, è una casa che collega due vie, per cui ha molto questo senso. E poi sicuramente per come Milano è introversa, dove le grandi famiglie hanno sempre un po' tenuto chiuse le loro porte e quindi i milanesi non conoscono tantissimo le dimore antiche che poi non sono appunto aperte, Bagatti-Valsecchi invece ha questa lunga tradizione ed è sicuramente per i suoi colori, per come è esposta a una speciale allure. All'interno di questa speciale casa-museo esistono sottili riferimenti che ci possono far capire come il legame tra Milano e la moda sia profondo e duraturo. La Galleria delle Armi, ad esempio, ci ricorda la raffinata produzione milanese di armature cerimoniali, quasi una hout-couture della moda maschile del Cinquecento. Il cabinet Bagatti-Valsecchi, allestito come un guardaroba, ci mostra splendide foto in bianco e nero dei due fratelli, elegantissimi, a cavallo o in velocipede. Ma non si parla solo di moda maschile. Molte affascinanti figure femminili hanno abitato o visitato il palazzo. Una per tutte, la contessa veneziana Elsa Albrizzi, pioniera dell'automobilismo, che nel 1899, al volante della sua Benz, conquista il secondo posto nella gara Padova-Verona-Treviso-Padova, dimostrando, come recita la pergamena che ne celebra il piazzamento, fantastico ardimento e ferrea determinazione. Queste presenze ancora si intuiscono visitando la Casa Museo Bagatti-Valsecchi e insieme al vicino Palazzo Morando, che ospita mostre temporanee dedicate alla storia della moda e del costume, rappresenta l'ideale completamento culturale di una passeggiata tra le boutique di Via Monte Napoleone e del Quadrilatero. Il Museo Bagatti-Valsecchi e Palazzo Morando si trovano entrambi a pochi minuti a piedi dalla fermata MM3 Monte Napoleone. Milano è tutto l'anno capitale della moda, ma ci sono due momenti nei quali la moda prende decisamente il sopravvento. È la Milano Fashion Week, una delle Big Four, delle quattro fashion week più importanti al mondo, insieme con Londra, Parigi e New York. A febbraio-marzo vengono di solito presentate le collezioni autunno-inverno, mentre a settembre-ottobre tocca alle collezioni primavera-estate. In quei giorni la città si riempie di modelle, modelli, giornalisti, buyer e fotografi, i taxi diventano introvabili e i musei, palazzi e architetture industriali vengono trasformati in luoghi di sfilate o feste fantasmagoriche. È un grande spettacolo multiforme ed elettrizzante, che per alcuni giorni fa di Milano il principale palcoscenico della moda mondiale. Quest'episodio è finito. Non togliere le cuffie. Come promesso, nei prossimi episodi approfondiremo altri aspetti e quartieri della Milano Capitale della Moda. Per ascoltare i prossimi episodi, seguici sulle tue piattaforme preferite o visita il sito www.casemuseo.it dove potrai anche acquistare la card per visitare il Museo Bagatti Valsecchi, Villa Necchi Campiglio e il Museo Pol di Pezzoli a prezzo scontato. Casa Museo Boschi di Stefano è gratuita.